Allora continuiamo la nostra serie sul passato remoto e in questo video parliamo dei verbi con il déjà vu. I verbi con il déjà vu è una denominazione scherzosa che do a quei verbi che ricordano l'infinito latino, che hanno questo infinito latino che ogni tanto ritorna. Si introducono generalmente quando si fa il presente, poi sono molto utili perché questo infinito latino ritorna nell'imperfetto, nel gerundio e anche nel passato remoto. Fare, presente faccio, imperfetto facevo, gerundio facendo, vedete da facere, dire, dico, dicevo, dicendo, da dicere, bere, bevo, bevevo, bevendo, da bevere e poi più avanti in genere si introducono i verbi indurre, trarre, porre. Sono generalmente verbi con un affisso, tradurre, condurre, produrre, ok, proporre, supporre, comporre, eccetera. Sono molto produttivi e partono in realtà dall'infinito latino ducere, traere e ponere, per cui io traduco, tu sto trai e lui propone, ok? Stessa cosa, quindi traduco, traducevo, traducendo, sottraggo, sottraevo, sottraendo, propongo, proponevo, proponendo, ok? Allora, questo infinito latino ritorna anche nel passato remoto e se noi ci ricordiamo questo fatto, cioè che l'infinito latino partecipa nella coniugazione del verbo al passato remoto, vediamo che possiamo includere questi verbi nel gruppo dei semi irregolari, no? Tra i semi irregolari noi per esempio abbiamo visto il verbo scrivere, scrissi, scrivesti, scrisse, scrivemmo, scriveste, scrisse, abbiamo visto come la prima singolare, la terza singolare e la terza plurale partono da una radice irregolare, mentre le altre persone partono dalla radice irregolare, sono regolari e anche qui col verbo fare abbiamo feci, fece, fecero, la parte irregolare e la parte irregolare parte non dall'infinito italiano ma dall'infinito latino, quindi facesti, facemo, facesti. In questo modo basta sapere la prima persona del singolare e l'infinito latino per ricavare tutta la coniugazione. Adesso metti in pausa il video e prova a coniugare il passato remoto del verbo dire. Ed ecco la soluzione. Dissi, dicesti, disse, dicemmo, diceste, dissero. Dissi, disse, dissero sono la parte irregolare e dicesti, dicemmo, diceste sono invece derivati dall'infinito latino. Qui vi ho messo la lista di questi verbi e la prima persona del passato remoto. Con questi elementi potete coniugare tutti i verbi. Poi bisogna impararseli a memoria ma è questione di tempo e di pratica, come sempre.